segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te no ma comunque aveva comunque il 12 13 non ricordo più quanto quindi sia la lega che forza italia sono complessiva complessivamente la lega e forza italia complessivamente si sono sono quasi dimezzati rispetto al 18 questa è la storia la quali la coalizione di centrodestra se complessivamente la coalizione di centrodestra ha sicuramente vinto perché dall'altra parte non c'era una coalizione è ridicolo quello che dicono i giornali e quello che hanno continuato a ripetere anche le televisioni paragonando la coalizione di centrodestra la coalizione di centrodestra ma quale coalizione era c'era il pd da solo che coalizione era ecco ci arriviamo il partito il pd ci arrivo subito ma quindi è chiaro che la coalizione voglio dire la coalizione la coalizione di centrodestra ha vinto ma non ha stravinto neanche per sogno perché avrebbe stravinto se fosse arrivata 50 per cento complessivamente ora ha una forza vincitrice sicuramente ma non così vincitrice nei rapporti parlamentari e già due partiti uno che si regge su berlusconi sulla faccia di berlusconi perché quell'8 per cento è firmato berlusconi punto e basta nessun altro berlusconi che insomma ha un futuro diciamo così per modo di dire insomma no è una forza politica a perdere c'è poco da fare a perdere e dall'altra parte una lega in grande fibrillazione in grande difficoltà e quindi le posso chiedere a proposito della lega un attimo a proposito della lega lei è un profondo conoscitore della lega sin dalla dalle dai primi passi di di bossi e del suo movimento poi diventato partito ecco secondo lei il problema della lega è solo salvini che intanto resta in sella dopo il consiglio federale di ieri insomma tutti zitti ma no è un problema è un problema sì no guber è un problema è un problema come gli altri partiti sotto certi aspetti è un problema che non sanno che non sanno chi sono che non sanno non hanno identità non sanno da che parte andare quindi la lega volendo fare il salto come grande forza nazionale ha sposato quello populismo quella cosa che salvini e per come diceva giustamente severi nini e al sud lo hanno assaggiato le abbiamo provate tutte proviamo anche lui ed è durato un anno un anno e mezzo va bene e allora possiamo ritornare a questo punto ad essere il partito del nord possiamo tornare ad essere soltanto quello e soltanto quello come era con bossi eccetera possono arrivare al 7 all'8 per cento 9 per cento ma non possono diventare grande forza nazionale quindi devono decidere che cosa vogliono essere vogliono essere un partito che rappresenta alcuni settori commerciali artigianali produttivi del nord vogliono essere un grande partito nazionale ma non è un treno già perso professor cacciari questo visto che al nord sono stati doppiati come da fratelli d'italia i leghisti no quindi certo ma certo perché c'è stato questo exploit dei fratelli d'italia che io sono d'accordo con se regnini attenzione perché un exploit che si spiega essenzialmente certo la meloni abile certo è una donna certo ha fatto bene la campagna elettorale non ci dubbia alcuno anche grazie alle strafaccioni commessi da altri e tuttavia molti di quel voto è il voto di persone che dicono beh le abbiamo provate tutte e proviamo anche questa è un assaggio però diciamo